Signori abbiamo lo showcase di solo leveling, finalmente come annunciato in uno dei miei ultimi tiktok oggi sul sito coreano di Netmarble hanno mostrato effettivamente il gioco nella sua interezza qualche background, come sarà la struttura principale, risponderanno oggi alla nostra domanda più gettonata avrà delle meccaniche gacha o sarà un action RPG con microtransazioni al suo interno e tante altre curiosità che finalmente potremmo scoprire oggi tra l'altro la live è durata 50 minuti ma sicuramente nel video vi avrò tagliato un sacco di parti molto più discursive e ve le riassumerò, ma soprattutto mi aspetto una data di rilascio per ora sappiamo che il gioco verrà rilasciato nella primavera 2023 adesso vediamo se ci daranno effettivamente una data di uscita manifesto la data di uscita ok ci siamo trailer principale del gioco sicuramente eccolo ho messo il sottotitolo in italiano per capirci qualcosa perché non c'è la presenza di sottotitoli in inglese e la live è chiaramente tutta in coreano senza principale il gioco chiaramente seguirà tutta la trama ho adorato questa parte 2024 dai non fateci attendere vogliamo una data mi è piaciuto quell'effetto in 2d ecco questo effetto che ricorda un po' il manga vuoi giocare penso, si un passaggio che collega altri ambienti a questo mondo parlando della grafica in sé per sé ricorda tantissimo quella dei gacha moderni potremmo definirli o comunque giochi mobile moderni quindi non una grafica totalmente 3d ma ricorda un po' Tower of Fantasy Punishing anche lo stesso Genshin Impact questo è il Webtoon ok sta riprendendo un po' la trama generale belli gli effetti e anche le scene sono quelle nel senso proprio i disegni no ma che ma hanno proprio animato il Webtoon impazzisco perché le immagini mi sembrano quelle originali dovrei andarla a cercare ma sembrano quelle molto bello ok quella sarà una cutscene bella non vedo l'ora di scoprire i dungeon ok trailer principale bello menzogna c'è scritto attenzione eh spoiler eeeh che accoglienza la net mamma mia al solito fanno le cose in grande quest'aria di solennità eccolo 14,3 miliardi di Webtoon mamma mia just me alone salire di livello è finalmente un gioco finalmente direi dal 2022 lo stiamo aspettando sono due anni forse due anni e mezzo no ma se non mi sbaglio è stato annunciato nel 2022 è la prima volta lo aspettiamo da lì ne è passato di tempo maggiore informazioni sul gioco ok un'intervista con gli sviluppatori questo sarà sicuramente uno spaccato dietro le quinte vediamo un po' che cosa ci propongono ah ecco la parte dello sviluppo che bella credo sia la cosa più interessante subito dopo i contenuti di gioco che poi ci riguardano direttamente ecco vedi quindi c'è un'alternanza effettiva tra 2D e 3D no impazzisco allora è vero non era una mia impressione hanno animato direttamente il webtoon quindi le immagini originali e ne hanno fatta un'animazione ecco questa è la scena originale bellissimo questa è la resa del dungeon e questa è la resa di animazione dal webtoon hanno combinato questi due effetti grafici dunque quello che sono riuscita a capire da questo pezzo di live è che comunque ci saranno delle armi diverse ora abbasso un pochino il volume perché non so quanto mi state sentendo ma ci saranno varie armi presenti all'interno del gioco e credo sia questa la parte gacha anche se non è stato confermato il banner armi e cose del genere però ecco qui ci vengono riproposte vari tipi di armi in realtà varie armi e dicono che in base all'arma ci saranno degli attacchi specifici ecco per esempio in questo caso l'attacco base e man mano che l'abilità cambia l'azione operativa cambia completamente possiamo anche usare una sorta di combo di armi quindi diciamo che il personaggio non è legato all'arma non esiste l'arciere non esiste il lance user non esiste lo sword user non esiste il catalyst user ma esiste una varietà di armi e la loro combinazione ci danno origine ad un combat personalizzato in base a quello che noi vogliamo ottenere come risultato sia a livello di strategia sia di ottimizzazione di danni in base ai nemici presenti nel dungeon o comunque nel contenuto di gioco bella comunque la falce ok possiamo anche assorbire queste rune le rune vengono aggiunte alle abilità quindi andranno a condizionare ulteriormente il nostro combat bella ok per esempio questa ci dà il fulmine ogni rune chiaramente ha un effetto diverso le abilità di manipolazione ok questa sembrerebbe essere una schivata salendo di livello ho capito concettualmente cosa hanno fatto salendo di livello esattamente come il maunwa noi siamo in grado non solo di expare ma anche di acquisire varie abilità che ci portano a personalizzare sempre di più il nostro combat come abbiamo visto prima con le armi e con le rune ma non solo ci sono salti particolari schivate attacchi anche mi pare di capire ecco per esempio qui vediamo proprio la schivata il salto ok ok l'avevo visto da qualche parte stupenda questa cosa ecco perché e le abilità si possono incastrare a quello che incastriamo prima con le rune e le armi in sostanza andiamo a creare un personaggio su misura per noi fantastico fantastico bellissima questa cosa e si ottengono non l'hanno detto però probabilmente con il livello chissà se ci saranno anche dei content di gioco che ci daranno la possibilità di prendere delle abilità speciali ok il nostro personaggio principale è sempre siano questi fanno parte della squadra ma li possiamo scegliere tipo scegliere il personaggio principale oppure il personaggio principale tipo scrittato e loro son pullabili però non hanno parlato di banner in effetti io ho letto dappertutto due tipi di correnti di pensiero mettiamola così da un lato c'è la community che dice non ci sarà una parte gata dall'altra parte c'è la community che dice che ci sarà una parte gata io qua vedo dei personaggi però che si muovono in combo cioè effettivamente c'è una combo di persone una squadra di personaggi quindi come è che si muovono sembrano quasi dei support però perché è sempre inquadrato lui come personaggio principale non lo so collegare le abilità ecco boh aspetto la news proprio sul banner secondo me ci sarà una componente gaccia a questo punto sia per pullare le armi sia per pullare i personaggi classica funzione allora io nel frattempo sono andata avanti con la live in cerca di news su cose che ci interessano in maniera ancora più diretta quindi il 19 marzo cioè oggi è aperta la pre-registrazione andate sul sito ve lo lascio qui in descrizione iscrivetevi e il gioco verrà rilasciato in maniera global quindi arriverà da noi il 5 maggio mentre il 21 marzo ci sarà l'accesso anticipato per il Canada e la Thailandia però da noi arriverà il 5 maggio sarà disponibile per iOS Android ci sarà un client su PC non è stata ancora confermata la presenza su eventualmente su console ma nel caso vi aggiornerò per il momento sicuramente arriverà per mobile e per PC registratevi perché ci sarà anche una skin una skin per il nostro personaggio 10 cristalli di mana 100.000 unità di gold quindi le monete e qualche manufatto quindi conviene assolutamente tra l'altro altra news il peso del gioco se vi interessa sarà di 4 giga e 1 e chiaramente ci sarà l'italiano questa era un po' passata come come sottotesto nel senso quando vediamo Netmarble ormai sappiamo che per il 99% delle volte i giochi sono già tradotti in italiano e per solo leveling non fa differenza quindi ci sarà ufficialmente anche l'italiano ci sarà una modalità storia dopo il lancio ufficiale la storia principale verrà fornita trimestralmente e una storia originale ci sarà ogni mese ci dicono inoltre ci dicono che hanno in programma di ospitare trasmissioni regolari per ascoltare e comunicare le opinioni dei giocatori quindi ci sarà una live di presentazione un po' come siamo abituati confermato che non c'è il pvp il gioco avrà contenuti pve nei primi sette mesi con contenuti di gilda ogni mese ci sarà un nuovo evento nuovi ride e nuovi ride mondiali nuovi personaggi e nuove armi ogni mese bene io direi che effettivamente ci interessa questo questo briefing di gioco non sembra male anzi tutt'altro sembra un gioco fatto veramente bene io incrocio fortissimo le dita perché questo può essere uno dei giochi migliori al momento fatti dalla net per me il miglior gacha fatto dalla net resta sicuramente nanatsu per il momento anche perché altri contenuti della net diciamo che non sono andati chissà quanto lontano mentre il gacha di nanatsu di seven deadly sins e grand cross è andato comunque discretamente avanti e anzi l'ho amato tantissimo questo qui si annuncia bene devo dire che la presentazione è stata bella mi ha messo hype soprattutto mi ha messo curiosità lo proveremo insieme ora vediamo se il 5 maggio o riusciamo attraverso una VPN non lo so ad andare prima adesso vediamo un pochino vedo se è una cosa che si può fare e vediamo un pochino al massimo raga io parto vado in Canada ed effettivamente tra il 22 perché ci vediamo il 22 in live il 22 live dal Canada fatemi sapere nei commenti se anche voi viaggerete per il Canada per il day one di questo gioco io lo porterò live sicuramente il 22 sicuramente tra virgolette dipenderà dal costo del biglietto avete capito no voi ricordatevi invece di farmare che allo scuro ci penso io e mood di vita stai chill bye ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti